Soltanto nel corso dell'ultima settimana, nella città di Pesaro sono stati espulsi quattro cittadini extracomunitari irregolari sul territorio. Espulsioni avvenute mediante l'accompagnamento da parte del personale della Questura in vari centri di permanenza per il rimpatrio dislocati fra Puglia, Lazio e Sardegna. Tutte e quattro le espulsioni risultano legate a reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. La prima espulsione ha riguardato un albanese di 62 anni che aveva appena concluso il periodo di carcerazione dopo una condanna a più di tre anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, ma noverava precedenti anche per reati contro la persona. Il secondo espulso è stato un gambiano di 26 anni rintracciato dalla Questura all'interno del parco Miralfiore e risultato irregolare sul territorio, oltre che pluri-pregiudicato in materia di stupefacenti, lesioni, resistenza, furto e violazioni della legge sulle armi. Sempre al Miralfiore è stato rintracciato un nigeriano di 33 anni che annovera numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Risale invece alla scorsa notte l'espulsione di un marocchino di 31 anni con precedenti perfurti, lesioni, minacce, che aveva appena concluso il periodo di carcerazione, ma che era stato sorpreso a spacciare mentre era ristretto agli arresti domiciliari.